Allora, buonasera a tutti, oggi è l'8 novembre del 2018 e siamo sul live per parlare di CLIL, questo è uno dei seminari online che fanno parte del piano di formazione regionale per la Toscana, è un piano realizzato in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale per la Toscana e l'unità nazionale Twinning Indire, io sono Simona Bernabei, sono il referente pedagogico e Twinning per la Toscana e insieme a me questa sera sono Luisella Mori e Francesca Mancini, Luisella Mori e Francesca Mancini sono due ambasciatrici Twinning che si trovano entrambe con noi per parlare di CLIL, CLIL Approaches in Education or for Education, il webinar sarà in italiano ma lo via via aiuteremo, se ci dovessero essere dei colleghi stranieri li aiuteremo e parleremo con loro in chat in inglese, dunque Francesca è una collega di inglese e si occupa di scambi europei e partenariati europei e grazie alle moderne tecnologie è riuscita a confrontarsi con altre realtà scolastiche in tutta Europa e naturalmente la prospettiva europea dice lei stessa enormemente arricchito e migliorato la qualità del processo di insegnamento e di apprendimento, Francesca si occupa da anni di didattica della lingua inglese e di formazione dei docenti, ha lavorato e lavora con l'Università di Firenze con grandissima attenzione a The Twinning, poi magari vi accennerà lei che cosa fa. L'altra collega è Luisella Mori, anche Luisella è un'ambasciatrice twinning, insegna, non ho detto che Francesca Mancini insegna a Ponte d'Era, al liceo Montale, mentre Luisella insegna all'istituto tecnico Fermi di Ponte d'Era e si interessa da sempre di tecnologie e scambi culturali e metodologia CLIL, è una docente d'inglese e ha lavorato su vari progetti come Enius e Twinning e ha partecipato alla Comenius e Twinning School Partnerships Experience Sharing Conference di Praga con un suo progetto e questo ci interessa particolarmente perché la sua attività era concentrata sulla pratica dell'integrazione di Twinning nei progetti come Enius. Entrambe sono docenti e formatrici di grande esperienza, io vorrei passare la parola subito a Francesca e nel frattempo ho messo all'inizio della chat, ma lo metterò subito dopo aver passato la parola a Francesca, un foglio per le presenze e poi via via vi linkerò anche un foglio per le domande, quindi piuttosto che farle qui in chat vi chiederei la cortesia chiederei la cortesia a chi partecipa di fare le domande sul foglio del Q&A, così che le possiamo raccogliere e le nostre relatrici possano rispondere o alla fine o con calma insomma, va bene? Allora io toglierei questa mia copertina e caricherei il documento di Francesca che poi Francesca tu puoi modificare ovviamente, cioè modificare scusami, spostare, muovere dalla tua postazione, io chiudo il microfono e ti do la parola, buon CLIL! Grazie mille, io I've seen there are lots of people from abroad, I'm very sorry because this is supposed to be in Italian, this training session, I'm very sorry for the foreigners. Allora, metto sempre questa slide quando parto, perché secondo me fotografa proprio la realtà dello studio oggi, cioè il ragazzo che ha una dimensione, la cui dimensione principale è proprio la velocità, che è la dimensione principale della nostra vita, del mondo moderno, è caratterizzato soprattutto da una velocità di trasformazione enorme, la scuola purtroppo non gli sta dietro, quindi più che lo studio mi perseguita io, se avessi dovuto scrivere io, avrei scritto lo studio mi rincorre e non ce la fa a prendermi, questo è bello, questo perlomeno è quello che io penso se mi metto dal loro punto di vista, dal punto di vista degli studenti. Ecco, per affrontare il CLIL, quando si parla di CLIL, si dovrebbe sempre parlare di Content and Language Integrated Learning e quindi di Dual Focus, cioè di un focus che sia sul contenuto, sia sulla lingua, che devono andare avanti insieme. La settimana scorsa, in una iniziativa di formazione, mi è stato detto, sì, tutti dite queste cose, dite tutti grossomodo le solite cose, però poi alla fine nessuno ci fa vedere come realmente si fa. Io credo che nessuno ci debba far vedere come realmente si fa, perché la trasformazione deve avvenire prima di tutto dentro di noi docenti e poi nel nostro ambiente di apprendimento, cioè se noi capiamo qual è la strada, e il CLIL è un'ottima strada, proprio anche per attuare questa grande trasformazione del processo di apprendimento, insegnamento, di cui tanto proprio si avverte l'esigenza ormai nel mondo e soprattutto in Italia, perché l'Italia arranca un po' dietro il resto dei paesi europei. Ecco, stavo dicendo, proprio per partire da alcune premesse metodologiche di cui bisogna un po' parlare. Quando si parla di CLIL si comincia sempre da Cummings, che quando parla di lingua ci dice che non va studiata in modo descrittivo nel CLIL, cioè l'insegnante CLIL non si deve mettere a fare grammatica, a spiegare, no, questo non gliel'ha mai chiesto nessuno. Però Cummings riassume le abilità comunicative dell'insegnante che fa CLIL specificando due categorie. Lui le chiama Basic Interpersonal Communication Skills, che sono le abilità necessarie per le situazioni sociali, le conversazioni ordinarie, le competenze di base all'interazione, che contraddistinguono l'insegnamento tradizionale nelle lingue, che sono quelle competenze che permettono ai discenti di comunicare. E poi CALP, Cognitive Academic Language Proficiency. Queste sono le abilità più sofisticate che richiedono un impegno cognitivo di livello superiore rispetto al BICS e che caratterizzano l'insegnamento veicolare. Ecco, se avrò combinato. Ecco, le quattro C mi sono un po' sparise, non so cosa gli ho fatto. Ah, ecco. Le quattro C, Cognition, Communication, Content and Culture. Io sono legata alla parola Community, prima ancora che alla parola Culture. Ecco, quando si parla di CLIL, di nuovo, noi dobbiamo sapere che noi siamo parte di un mondo, siamo parte di una società, siamo individui all'interno di un mondo naturale. Le cose principali che riguardano l'apprendimento sono imparare ad essere se stessi, però poi anche a vivere con gli altri, a pensare e ad imparare e anche a essere imprenditoriali. Queste sono competenze. Come facciamo ad acquistare queste competenze? Le materie, soprattutto negli anni conclusivi del corso di studi, dovrebbero aiutarci in questo senso. Quindi, matematica, la lingua, le materie letterarie in genere, l'arte, le scienze, l'educazione fisica, eccetera, eccetera. Tutte queste materie dovrebbero parlarsi, ma non lo fanno, non lo fanno poi troppo. Ecco, il CLIL è uno dei pochissimi esempi, nella nostra nazione perlomeno, in cui noi abbiamo un dialogo proficuo e continuativo tra gli insegnanti che portano avanti un progetto e un, potrebbe essere un modulo, un semestre o un intero anno CLIL. Si usa la lingua per sviluppare delle competenze attraverso contenuti che sono di volta in volta diversi. a me piace molto sempre ritornare ai ragazzi, rammentare che hanno una mente condivisiva, che fanno esperienze diversissime a quelle che facevamo noi. È necessario sempre chiedersi quali sono i loro bisogni. Se non si parte dai loro bisogni, quello che noi, il modo in cui noi interagiamo, il modo in cui noi porgiamo quello che possiamo porgere, non sarà, non si rivelerà mai efficace. Offro sempre questa diapositiva, era la diapositiva che fu realizzata lo scorso anno dagli Stati Uniti d'America come simbolo dell'educazione, dei programmi educativi dell'anno 2017. Rendere possibile ovunque, ma everywhere, all the time learning. L'apprendimento ovunque e in ogni momento. Ecco, rendere, è una bella sfida, ce lo chiediamo noi questo. Come sia possibile rendere l'apprendimento qualcosa di possibile sempre e ovunque. Ed è questa la realtà dei nostri ragazzi. Loro hanno accesso ovunque e in ogni momento a degli strumenti potentissimi, capaci di fornire informazioni, a questo punto il nostro ruolo non può che essere diverso. Infatti, rimmaginiamolo questo ruolo, rimmaginiamo il ruolo delle tecnologie nell'educazione, rimmaginiamo il ruolo degli insegnanti. Le tecnologie non è pensabile oggi, non tenere di conto delle tecnologie. Ci permettono di stare in contatto con il mondo intero, di avere un accesso continuo al mondo delle informazioni. Per esempio, i ragazzi hanno continuamente accesso a tutto. Magari si gioca una partita in classe, ma che pensiamo? Che loro aprano il telefonino per vedere come sta andando. Possiamo comprare e pagare online, possiamo giocare con i videogiochi. È stato provato che uno studente controlla mediamente il proprio smartphone circa dieci volte l'ora. L'alternativa è che noi li sequestriamo, facendogli li posare da qualche parte. Così, beh, insomma, io sono contrario anche a questo. Ecco, come sta questo insegnante in mezzo a tutto questo, questa enorme rivoluzione? Vorrebbe essere cooperativo, ma è esitante, è open-minded, è plaintive, cioè si lamenta fisso, è timoroso, è ansioso. Io ci ho messo un sacco di aggettivi dentro a questo world. È convinto, a volte sì, a volte no. Ecco. La scuola è stata, come tutto il resto del mondo, ormai digitalizzata. Perché allora è così vestì al cambiamento? Mi ha colpito molto che proprio pochissimo tempo fa sia stato fatto un documento firmato da mille rappresentanti della cultura, da marea di docenti, da professioni universitari, per ritornare al mondo delle conoscenze. Perché tutta questa idea di competenze non piace, forse fa anche paura. Questo è veramente significativo di come l'Italia affronta il cambiamento. In un'epoca così veloce come la nostra, come dovrebbe prefigurarsi una lezione? Ecco, appunto, prima ho messo lamentosi, perché si lamentano fisso, basta entrare in una sala, io ne sono in sala di insegnanti, non c'entro mai. Ah, e non stanno attenti, e non sono interessati, e non si coinvolgono, e non ti ascoltano. Queste sono le lamentali fisse. Quanti? Quanti dei nostri docenti affermerebbero che il coinvolgimento e la partecipazione degli studenti dovrebbero essere il primo scopo, ecco il cane, ora, ora la chiude, scusatemi. Dicevo, quanti affermerebbero che la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti devono essere il primo scopo del loro lavoro? Non credo tanti, eh? Gli educatori devono equipaggiare gli studenti con tutte quelle abilità necessarie ad affrontare un mondo che è sempre più digitale, da quella che noi chiamiamo media literacy, alle competenze di cittadinanza attiva. Allora, l'apprendimento deve farsi sempre più attivo, sempre più autentico. In questo il CLIL gioca un ruolo eccezionale, o può giocare un ruolo eccezionale. Perché? Perché mette al centro del processo di insegnamento e apprendimento proprio questi concetti, l'impegno, l'interazione, la cooperazione, l'integrazione, l'inclusione. La classe che si fa sempre più digitale non può che prevedere un insegnamento che sia di tipo attivo. L'insegnamento, sì, l'insegnamento attivo coinvolge negli studenti nel fare, il famoso learning by doing, e nel pensare a ciò che si fa, quindi la metacognizione. Ecco, io cito sempre questo esempio, sempre anche con gli adulti, sia che parli di scuola primaria, sia che parli di scuola secondaria. Per me questo è questo piccolo esempio, mi dispiace non poter far vedere il video, per me è pressoché, perfetto. Sara Phillips è un'autrice della Oxford ed è un'esperta CLIL. Io qui vi ho messo l'indirizzo, per chi se lo vuol vedere, ha un piccolo video, è bellissimo, è della serie Teaching Tips. Dà una dimostrazione di come si possa partire dai piccolissimi, quindi dai bambini della primaria, per insegnare matematica in inglese. Che cosa fa lei? Ogni bambino dovrà scegliere un frutto, disegnare un diagramma, l'insegnante sta lavorando sui Carol Diagrams, raccogliere dei dati, disegnare una telechart, contare e poi fare un calcolo statistico. Ecco qua, ogni bambino cosa farà? Andrà in giro e chiederà ai suoi compagni in merito ai gusti che hanno a che fare con la frutta. Qui ve lo faccio vedere meglio, no, qua, ecco. Quindi ogni bambino dovrà dire, per esempio, do you like oranges? Quindi il bambino dovrà dire se, o la bambina dovrà dire se gli piacciono, o non gli piacciono e la bimba che sta andando in giro o il bimbo che sta andando in giro dovrà mettere uno stick al punto giusto, quindi se è un ragazzino e gli piace sarà nel primo quadrante, se è un ragazzino che non ama le oranges dovrà mettere nel secondo quadrante, eccetera. Questo verrà fatto da tutti i bimbi su un'ampia varietà di frutta. L'esempio permette di lavorare su alcune strutture semplici della lingua mettendole in pratica, permette di lavorare sulle quattro C, content, cognition, communication, community. Torniamo un attimo indietro, così ce li andiamo a riguardare. Si dà una dimostrazione pratica perché il contenuto è come si realizza un diagramma di Carroll, la cognition, come si impara a classificare i dati, communication, come si fa a fare dei questionari, a fare dei domandi, a raccogliere dei dati, e community, un'esperienza che favorisce nei bambini la consapevolezza che le persone possono avere gusti diversi per quanto riguarda il cibo e la culture, o che si voglia dire community, è una delle cose più importanti. Questo secondo me è un esempio brillantissimo di come si possa mettere in pratica esattamente quello che diciamo sempre in via concettuale. Per quanto riguarda l'apprendimento della lingua, il focus non è sulle strutture, sulla grammatica, ma è proprio sul PIX, come si diceva prima, cioè sull'uso in contesto reale per risolvere un task, un compito. La lingua è usata proprio come un mezzo per portare a compimento un task, per risolvere un problema, per sviluppare un progetto, per esprimere idee e ancora. Certo, tutto questo necessita un ambiente di apprendimento che va oltre la classe, non c'è il vertice, questa classe va ridisegnata in ogni modo, è impossibile rimanere lì dentro. Io me la sento proprio strettissima ormai. Io farei piuttosto lezioni al corridoio, se me lo permettessimo. L'ambiente educativo si trasforma. Si trasforma dal momento in cui io metto l'allevo al centro di tutto. E tutto ciò che lo circonda, cioè tutte quelle strategie che io come docente metto in atto, deve permettergli di costruire il proprio bagaglio di conoscenze, esperienze, competenze, sia che abbia sei anni, sia che ne abbia tre, perché io credo che questo sia in continuità sempre necessario, sia che ne abbia diciotto. E deve permettergli l'interazione con gli altri studenti. Proprio oggi un mio carissimo amico ha messo un post su Facebook, il professor Formiconi, all'Università di Firenze, dicendo mi convinco sempre di più, sto leggendo Freire, mi convinco sempre di più che anche nelle aule universitarie la lezione frontale debba cessare totalmente. Meno male. L'interazione, dicevo, l'interazione è al centro di tutto. Si costruisce conoscenza interagendo con gli altri e facendosi aiutare, certo, facendosi aiutare. Il famoso scaffolding di cui si parla continuamente, questo è il vero ruolo dell'insegnante. Un insegnante che sostiene, supporta, è presente laddove è necessario e dà un feedback continuo. continuo. Grazie, ecco, fatemi tornare indietro un attimo. Grazie alle tecnologie, l'interazione diventa un'interazione possibile ovunque, anche con classi al di là della nostra scuola, anche con classi al di là della nostra nazione. Le parole chiave sono appunto peer learning, peer tutoring. Noi lo sappiamo, lo scaffolding ci permette di passare la famosa zipidila, la zone of proximal development, di cui Vygoschi ha sempre parlato, ci permette di passare da ciò che l'alunno sa fare a ciò che l'alunno ancora non sa fare, ma che si prevede che riesca a saper fare con l'aiuto, con la guida di chi? Degli adulti, certamente, della famiglia, degli insegnanti, dell'ambiente in cui vive, ma in gran parte anche dei propri compagni. Ecco perché è diventato così importante parlare di peer learning, peer tutoring. Ecco, io adoro tanto questo, sono un po' fissata sulle tassonomie, spesso mi piace soffermarmi su tutta quella serie di azioni che ogni tassonomia implica, ma qui penso che si farebbe un po' lunga come uccidete, quindi lascio perdere. Ecco, però ritorno a questo concetto, apprendimento significativo ed esperienziale, certo, ma soprattutto tutt'attivo e autentico. E per quanto riguarda la lingua 2, tutte le funzioni, le strutture, contenuti, il lessico, vengono ad essere ancorati al task stesso e ne aumentano le caratteristiche di cui si parlava sopra e contribuiscono allo stesso tempo a sviluppare quelle thinking skills che sono ormai necessarissime più di ogni altra cosa. La progettazione degli interventi didattici in CLIL è basata su concetti, usa i nuclei fondanti della disciplina per condurre lezioni che non saranno così focalizzate su dei pezzettini di conoscenza, segmenti, frammenti di conoscenza e questo richiede procedure di valutazione che siano formative, che offrano un feedback continuo e anche ricorso alle tecnologie in questo caso diventa un vero e proprio dispositivo pedagogico. Concetto, chiave, ecco è questo che mancava nella domanda che mi hanno fatto i docenti la scorsa settimana, ci dite tutte le stesse cose ma nessuno ci dice come si fa e non è vero perché io per esempio sono sempre incaricata di fare studi di caso quindi più che presentare studi di caso non faccio ma evidentemente l'insegnante vorrebbe sempre avere un qualcosa da di rassicurante da seguire questo non è possibile mai mai è possibile perché ogni volta la situazione cambia le materie coinvolte cambiano il CLIL stesso è una cosa talmente in evoluzione dipende dalla lunghezza del lavoro che ci si prefigura e da mille altre varianti ma qual è la costante che secondo me è sempre necessaria il mettere in pratica quello che vogliamo insegnare io ricordo una decina di anni fa di aver telefonato a un insegnante tedesco con il quale dovevo parlare e disse ma sei occupato mi disse no sto insegnando religione a un gruppo di atei era buffissimo una persona molto buffa e mi disse sai perché io sono un insegnante di filosofia ma quando lavoro quali sono le domande esistenziali da apporsi per me la prima domanda è chi è Dio e io lo chiedo io lo chiedo sempre chi è Dio ecco questo insegnante non insegnava storia della filosofia se no non avrebbe potuto chiedere chi è Dio in classe questo insegnante insegnava filosofia non storia della filosofia in un liceo di Liverpool io ho visto due laboratori di arte e la raccomandazione era state attenti si scivola erano pieni di colori a olio colori a tempra da tutte le parti c'erano lavori ammezzati perché i ragazzi non facevano storia dell'arte facevano arte ecco la pratica per me è essenziale durante le lezioni si deve dare agli studenti ogni opportunità di lavorare insieme sui concetti che ci interessa portare avanti offrendo l'opportunità sì di un feedback continuo prima ancora ovviamente di attività varie cioè variare continuamente le attività dare una gamma di attività e poi offrendo un feedback continuo è solo così che i saperi si ancorano davvero nelle menti e poi fare una riflessione su ciò che si è fatto sulle attività svolte creerà i presupposti per l'agire metacognitivo e anche per lo sviluppo del pensiero critico il pensiero critico non si sviluppa da sé si deve insegnare a pensare si può insegnare a pensare certamente ecco dal task all'idea di progetto ad e-twinning e-twinning questa piattaforma creata per collaborare e anche per offrire ai docenti opportunità di sviluppo professionale come quella che stiamo portando avanti adesso è forse l'esempio migliore che si possa fare di ambiente di apprendimento che sia davvero collaborativo davvero che sia autentico come di tutto dove tutto il processo di apprendimento e insegnamento acquista maggiore significatività ed è per questo che diventa efficace ecco cosa permettono i progetti twinning penso lo sappiate bene tutti non ho bisogno di insistere su questo quello che mi piacerebbe dire soprattutto è che dando questa dimensione europea a quello che si fa portando nelle nostre aule e esportando la nostra cultura nelle aule dei paesi stranieri noi rendiamo il tutto mille volte più coinvolgente e di questo abbiamo bisogno ecco io credo di avere concluso ecco thank you e-tweening for making my job much more involving committing and fun e questo è credo molto rispondente alla verità grazie a tutti quanti io spero di non aver sforato e lascio la parola allora grazie Francesca per la tua presentazione ho messo in chat il link al foglio sia delle presenze che delle domande quindi se avete delle domande per Francesca potete scriverle lì e poi magari gli ultimi minuti se rimane tempo risponderanno risponderemo alle vostre ai vostri quesiti io lascerei la parola a Luisella Luisella se tu hai delle slide possiamo interrompere la condivisione di Francesca e caricare eventualmente se tu hai delle slide altrimenti dimmi tu puoi attivarti il microfono per parlare Luisella mi sentite? mi senti? si ti sento bene Luisella ok si ho delle slide come aspetta le metto tu vedi condividi schermo condividi schermo davanti a te no? perché tu sei relatrice quindi puoi fare puoi caricarle ok freccettina ok vai giù e te le carichi dal pc ok quindi scelgo desktop fai no fai condividi schermo scusami no condividi schermo aspetta fai condividi documento te lo carichi dal computer allora ritorna indietro guarda allora condividi vedi che c'è condividi documento si poi fai cerca nel computer ok e poi lo carichi dal computer come se fosse un qualsiasi allegato ok e poi gli dai ok e lui te lo carica si te lo sta caricando allora io ti do la parola e chiudo il microfono ok d'accordo niente io intanto saluto tutti ringrazio Francesca per insomma per quello che ha detto che io condivido al 100% e ovviamente ringrazio Simona per l'invito a fare questo webinar e ovviamente ringrazio anche tutti quelli che stanno ascoltando diciamo che mentre Francesca parlava sinceramente mi sembrava di sentire cioè quello che anch'io penso al 100% tra l'altro come ho scritto in chat non solo i ragazzi forse controllano 10 volte all'ora o anche 20 il cellulare ma io stessa ormai lo faccio continuamente e purtroppo quando sento colleghi che vorrebbero ritornare alle conoscenze insomma anch'io mi sento un po' male un po' preoccupata diciamo perché sinceramente mi sembra una cosa assurda dunque vediamo se nel frattempo mi carica le slide sì le vedete si vedono le puoi volendo anche ridimensionare se credi o se no le lasci così come perché come vuoi le puoi rimpicciolire le puoi adattare come vuoi no per me va bene e le giro io con le frecce sì vai avanti con freccia giù esatto perfetto adesso è proprio perfetto freccia giù puoi anche andare con freccia giù senza andare sul cursore così fai prima ok va bene ok va bene come dicevo Francesca ha già detto tutto quello che c'era da dire sul CLIL di fatto io diciamo vi racconto un po' la mia esperienza in quanto all'inizio quando si è parlato di introdurre il CLIL obbligatorio nelle scuole superiori e in particolare io sono in un tecnico in un istituto tecnico quindi per noi l'obbligatorietà era per la classe quinta e ovviamente tuttora non ce la facciamo a coprire tutte le classe quinte però ho avuto la fortuna di incontrare una collega di arte con la quale riusciamo a fare CLIL nell'indirizzo turistico che è un indirizzo in cui appunto una delle materie di indirizzo è arte e territorio un'altra fortuna è stata quella che nonostante noi non l'avessimo chiesto l'ufficio scolastico provinciale ci ha dato il potenziamento sia per inglese sia per arte quindi ci siamo ritrovate nella situazione fantastica in cui noi possiamo fare CLIL insieme mi ricordo ancora diciamo i primi tempi in cui si parlò di CLIL le polemiche per il fatto che il ministero non aveva coinvolto le insegnanti di lingue è vero cioè sembrava una cosa strana in realtà oggi se si ha questa fortuna di avere il potenziamento si riesce a farsi coinvolgere e comunque ci si riuscirebbe in ogni caso se basta volerlo è vero però che nel CLIL la figura fondamentale è l'insegnante DNL cioè l'insegnante della disciplina non linguistica che veramente ha un ruolo fondamentale oltre al fatto che questo ruolo lo hanno soprattutto gli studenti noi abbiamo ormai facciamo CLIL insieme io e Irene Buonazia da diversi anni e abbiamo visto veramente tutto quello di cui parlava Francesca cioè realizzarsi quelli che criticano il CLIL o che dicono che sia una cavolata sono anche quelli che forse vorrebbero tornare alle conoscenze noi abbiamo visto cambiare i ragazzi perché comunque in un istituto tecnico non si hanno ragazzi super bravissimi che stanno tutti l'inglese benissimo però lavorare in modo diciamo lavorare sulle thinking skills lavorare in modo collaborativo lavorare in modo attivo veramente cambia la prospettiva sia per l'insegnante sia per gli studenti qui in questa slide diciamo abbiamo un po' messo insieme quelli che ci sembrano i vantaggi principali del CLIL ovviamente per la lingua i vantaggi sono tanti ad esempio più tempo per praticare la lingua stessa più input nella lingua due quindi l'uso di materiali autentici testi audio video di tutti i tipi spesso materiali anche non didattizzati quindi anche un po' difficili forse per i nostri studenti però con quello scaffolding con quella zona di sviluppo prossimale di cui parlava Francesca ci si riesce a farli a utilizzare questi materiali e poi il il vantaggio più importante è proprio il fatto che la lingua due non è più studiata in sé per sé ma è utilizzata e anche per il contenuto ci sono tanti vantaggi tra cui l'acquisizione di un lessico specifico alla disciplina e anche proprio il fatto di vedere le cose dal punto di vista di un'altra cultura noi l'anno scorso abbiamo fatto un lavoro sui musei e questo lavoro sui musei ci ha fatto scoprire ha fatto scoprire ovviamente ai ragazzi quanto sia diversa la gestione di un museo l'idea di un museo in una cultura anglosassone rispetto a quello che succede in Italia come raccolgono fondi musei come organizzano le loro attività insomma lo stesso argomento viene visto da una prospettiva completamente diversa e poi ovviamente il fatto che questi ragazzi acquisiscono delle competenze competenze che sono anche quelle di saper trovare le conoscenze online o su un libro o da qualche altra parte o su dei documenti questo perché oggigiorno è importante soprattutto saperle trovare queste conoscenze perché qualsiasi informazione online ormai si trova però se ne trovano anche tante false anche tante non affidabili quindi lavorare in CLIL utilizzando la tecnologia utilizzando dei siti utilizzando dei materiali online permette appunto di fare non solo la disciplina non solo la lingua ma anche una educazione all'uso degli strumenti digitali un'educazione alla cittadinanza e tutto il resto e quali sono gli svantaggi o le criticità perché gli svantaggi sinceramente ce ne vedo veramente pochi forse nessuno sicuramente ci vuole tempo ci vuole tempo e questo tempo deve essere il tempo anche e soprattutto in classe questo perché in classe ma non nel senso di classe delle quattro mure cioè il tempo che l'insegnante dedica a queste attività deve essere tanto poi ovviamente anch'io se potessi lavorerei in cortile lavorerei quando posso sicuramente trovo tutte le occasioni per portare i ragazzi fuori però ecco dedicare tanto tempo a queste attività è importantissimo cioè non si può pensare di dire allora fate per casa questo e quest'altro organizzatevi cioè l'attività CLIL è un'attività che principalmente si fa insieme ai ragazzi insieme ai ragazzi cercando di rendersi sempre meno sempre più trasparenti sempre meno importanti perché a mano a mano che si lavora sono loro che diventano autonomi sono loro che si aiutano tra loro che cercano appunto di risolvere i problemi aiutandosi l'un l'altro cercando risorse cercando informazioni quindi queste queste cosiddette soft skills che sono così importanti oggigiorno sicuramente si acquisiscono cambiando prospettiva e lavorando in CLIL e niente ovviamente come ha già indicato Francesca importantissima la tecnologia molto importante perché ci permette di fare tantissime cose ci permette comunque di di rendere interessante l'attività e di renderla reale perché oggigiorno un ragazzo che deve scrivere un'email in lingua straniera anche se ha un dubbio sicuramente va a cercare un esempio su internet o va a cercare la soluzione a un suo dubbio quindi perché proibire l'uso di questi strumenti in classe è veramente per me inconcepibile quindi multimodalità uso di tante immagini uso di video di materiali di vari tipi interazione collaborazione rarissimamente si fa una lezione frontale probabilmente mai cioè si dà uno stimolo e poi si lavora in gruppo a coppie e uso cioè uso della creatività dei ragazzi che a volte quando si arriva nella scuola secondaria purtroppo se la sono un po' dimenticata probabilmente ce l'avevano alla scuola dell'infanzia alla scuola primaria poi questi ragazzi purtroppo nella scuola italiana spesso già alle medie vengono un po' secondo me sciupati sciupati vengono forse intimoriti o gli viene richiesto di imparare a memoria delle cose non lo so fatto sta che spesso quando arrivano alla secondaria hanno un po' paura a osare a essere creativi e quindi tutto questo e ovviamente nella lingua la fluency è sicuramente più importante non si parla mai come aveva già detto anche Francesca non non si guarda mai la struttura della lingua non si parla mai di grammatica ma si pensa a usare la lingua per la comunicazione il fatto che il docente CLIL il docente DNL non sappia la lingua 2 perfettamente ma possa fare degli errori possa avere dei momenti in cui magari ha bisogno di controllare una parola sicuramente non è negativo anzi io l'ho visto proprio nei fatti è qualcosa di positivo che contribuisce a far cadere il cosiddetto filtro affettivo cioè quello che spesso rende difficile l'apprendimento della lingua perché comunque succede soprattutto con insegnanti più tradizionali che i ragazzi tendono a non parlare la lingua straniera perché l'errore viene sanzionato vedere un insegnante DNL che parla in L2 e che può avere delle difficoltà a farlo può capitare che non trovi la parola giusta o che faccia un errore è sicuramente qualcosa che fa scattare un qualcosa anche nello studente e gli dà la forza diciamo il coraggio di mettersi in gioco maggiormente perlomeno questo è quello che ho visto io quindi vabbè non vi sto a dire sicuramente tutti voi sapete come organizzare una lezione comunque diciamo che chiaramente nella lezione CLIL è importantissimo l'utilizzo di materiali vari sicuramente il libro io direi mai e poi mai perché ho visto perlomeno finora i materiali CLIL che ho visto nei libri di storia dell'arte o anche di geografia o anche di altre materie mi sembrano mi sembrano davvero davvero miseri quindi è tutto un lavoro da da costruire sul campo e poi per quanto riguarda il gli strumenti come diceva Francesca importantissimo lo scaffolding cioè il dare prima di tutto il fare in modo che per i ragazzi l'attività sia un po' difficilina un po' una sfida ma non impossibile ad esempio dare del lessico specifico oppure anche lavorare in modo da costruirlo insieme questo lessico specifico può essere un modo per rendere più facile lo studio di una disciplina come la storia dell'arte ma sicuramente anche molte altre discipline e questo sicuramente è un'attività interessante da fare per quanto riguarda la valutazione io sinceramente dei vari progetti che ho fatto delle varie dei vari moduli che ho fatto la valutazione non è mai stata il classico la classica verifica scritta non è quasi mai stata ma penso mai stata l'interrogazione parola che esiste nella lingua italiana e basta perché in qualsiasi io ogni anno quando a scuola ci arrivano gli assistenti Erasmus ne abbiamo avuti ungheresi turchi spagnoli portoghesi belgi tutti rimangono stupiti da questa parola interrogazione che dà proprio l'idea del fatto che il ragazzo si deve preparare a rispondere a delle domande tipo non lo so come se fosse in un commissariato di polizia in cui deve raccontare per filo e per segno quello che ha sentito dire in classe ecco molto spesso abbiamo dei prodotti finali e magari lo studente lo presenta lo presenta in classe ai compagni ma anche fuori dalla classe qui ho messo due foto di un di ieri queste foto sono di ieri dopo nell'ambito di un progetto Erasmus e i twinning perché anche nei partenariati Erasmus si lavora tanto sui twinning si lavora molto anche online quindi non solo quando ci vediamo abbiamo preparato dei sightseeing tour nelle varie città vicino noi siamo a Ponte d'Era quindi abbiamo preparato delle visite a Firenze a Lucca a Pisa i ragazzi hanno lavorato tantissimo ed è stato bello proprio vedere anche le varie le varie strategie che hanno utilizzato per preparare questa visita guidata qui vedete il prodotto finale che sono due studentesse che fanno veramente da guida all'interno degli uffizi con il loro microfonino e presentano dei quadri presentano la tribuna eccetera però ritornando proprio al discorso dei vari livelli di abilità richieste per arrivare a questo prodotto finale siamo partiti dal copiare cioè il primo giorno in cui abbiamo portato i ragazzi in laboratorio abbiamo detto loro abbiamo un po' suddiviso le cose da presentare di Firenze gli abbiamo detto loro di cercare delle informazioni online su quello che dovevano presentare quindi andando sul sito degli uffizi ma anche su blog su pagina in inglese visit Tascan e così via e di fare selezionare le cose che a loro sembravano interessanti e ricopiarle su un Google Doc su un documento di Google i ragazzi erano anche un po' stupiti che noi insegnanti dicessimo loro di fare un copia e incolla però questo copia e incolla è stato il primo passo perché poi abbiamo riflettuto insieme su chi erano i destinatari di questa visita guidata alcuni ragazzi che sono venuti questa settimana da noi non sanno molto bene l'inglese perché sono ragazzini turchi ciprioti greci alcuni lo sanno molto bene gli svedesi lo sanno molto bene i ciprioti piuttosto bene ma magari i ragazzini greci spagnoli e turchi molto meno quindi questi questi pezzi copiati da vari siti poi sono stati rilaborati tantissimo pensando a proprio cercare pensare a quali frasi potessero essere troppo difficili cercare sinonimi spiegare dei termini tecnici di arte perché in queste scuole dei nostri partner non c'è non in tutte studiano arte quindi un lavoro enorme che poi ha portato a una grande soddisfazione finale perché i ragazzi veramente sono stati molto molto bravi però altro che copiare insomma ci hanno lavorato mettendo in gioco delle abilità di livello molto superiore a quello della copia e semplificando anche le frasi pensando al fatto che una esposizione orale è ben diversa da un testo scritto siamo arrivati a dei a dei testi a delle presentazioni che ben poco avevano a che vedere con il testo che avevamo copiato inizialmente passo vi lascio poi anche qualche link questo è un altro progetto che abbiamo fatto se non sbaglio due anni fa ma poi ripetuto anche l'anno scorso quindi un lavoro in cui gli studenti hanno indagato cos'è l'UNESCO di cosa si parla quando si parla di World Heritage List e poi scelto un sito UNESCO analizzato i documenti originali sul sito dell'UNESCO e presentato il sito al resto della classe il tutto è andato a finire in un sito cioè i lavori dei ragazzi poi sono stati pubblicati su questo sito di cui vi metto qua il link e poi addirittura anche presentati alla cattedra UNESCO a Firenze ai primi di ottobre un altro esempio che vi faccio è questo un lavoro che abbiamo svolto l'anno scorso in cui gli studenti a gruppi hanno organizzato una esposizione una mostra quindi hanno dovuto in questo caso oltre a arte hanno messo in gioco molte altre discipline molte altre abilità tra cui appunto anche economia aziendale per fare il loro budget cioè hanno cercato di cioè hanno organizzato un sito in cui presentavano la loro mostra ma poi hanno fatto anche la mostra stessa l'hanno messa su a maggio lì a scuola quindi portando le cose da mettere in mostra facendo tutte le schede dei vari item che poi si trovano anche sul sito pensando a dei workshop da offrire ai visitatori e così via poi forse non penso che questi siano già abbastanza esempi e poi vi metto anche il link a questo progetto anche questo è un progetto i twinning e Erasmus in cui abbiamo lavorato a creare un documento di first aid lavorando collaborativamente a distanza in cui i vari ragazzi come vedete questo è uno screenshot ma come vedete all'interno di questo google slide erano in tanti stavano chattando per mettersi d'accordo su come organizzare le informazioni e anche qui ovviamente la cultura entra in gioco tantissimo perché quello che magari preoccupa un italiano può essere che ne so la scossa di terremoto o magari la piena se è piovuto moltissimo qui a Ponte d'Era succede che le scuole vengano chiuse per un cipriota la preoccupazione può essere anche quella di un attacco aereo da parte della Turchia purtroppo per dire loro a scuola fanno esercitazioni su cosa fare in caso di attacco aereo e questo sicuramente stupisce i nostri ragazzi nella scuola francese adesso sono obbligatorie le esercitazioni antiterrorismo quindi i francesi hanno aggiunto la parte relativa a questo in ogni caso ecco fare le stesse cose che si possono anche trovare su un libro ma mettendo invece in gioco le relazioni con altri ragazzi con altri adolescenti di altri paesi vedendo le differenze culturali trovandosi a produrre poi un prodotto finale che comunque non è per finta da dare all'insegnante ma è qualcosa che verrà usato nella vita reale o che verrà comunque distribuito o presentato è sicuramente qualcosa una grossissima sfida ma anche una grossissima soddisfazione poi alla fine per i ragazzi stessi questo è un altro screenshot ma io direi ho concluso poi se se avete domande se se avete curiosità direi che possiamo passare alle domande vi ringrazio allora io riprendo la parola e ringrazio te vedevo via via i commenti dei nostri amici che sono online e appunto gli esempi sono le esperienze sono sempre qualcosa di molto interessante che arricchisce e che ispira tra l'altro quindi penso che sicuramente tutti noi mentre tu sfogliavi e ci chiacchieravi e ci raccontavi le vostre esperienze hanno avuto tutti noi abbiamo avuto delle idee per qualcosa che ci piacerebbe realizzare ora dal punto di vista delle domande io ho guardato diciamo per adesso ho soltanto una una riflessione su cui probabilmente insomma si potrebbe aprire una una grande una grande chiacchierata ma Maria Cristina Bevilacqua ci dice io insegno in un professionale penso che le lingue siano mortificate andrebbero messe in compresenza con i tecnico pratici per essere efficaci effettivamente questo discorso del dei livelli linguistici è un problema è un discorso non so volevo magari se avete voglia aiuto non cancellatevi prego non cancellatevi prego quello che scrivono che hanno scritto gli altri perché se no è un problema dicevo Luisella o Francesca se avete voglia di ok Francesca alzato la mano Francesca tu puoi intervenire quando vuoi perché hai il microfono basta che tu lo accenda lo attivi quindi volevi intervenire su questo Francesca ah ok ci sei Francesca ah non vede più il microfono e il microfono è nella barra arancione sopra al diciamo sopra lo spazio della riunione sopra c'è una barra arancione e c'è il microfono che puoi attivare o disattivare nel frattempo mentre tutto avevi il microfono io volevo chiedere allora faccio questa domanda a Luisella tu nella tua esperienza di tanti anni come formatrice CLIL come docente che lavora sul CLIL che tipo dal punto di vista proprio degli effetti dell'efficacia dell'attività CLIL sugli apprendimenti della lingua inglese poi te ti confronti con l'inglese ma insomma avrai incontrato docenti che insegnano discipline in lingue diverse dall'inglese anche se poi l'inglese anche a livello di formazione da parte dell'ufficio scolastico regionale è sempre la lingua che ha la diciamo ha la meglio perché proprio numericamente i docenti anche di disciplina non linguistica che lavorano con l'inglese sono in maggior numero ma tu per quello che riguarda la tua esperienza che tipo di scogli di difficoltà hai incontrato dal punto di vista proprio dell'accrescimento dei livelli dell'inalzamento dei livelli della lingua inglese o di altre lingue utilizzando il CLIL o non utilizzando il CLIL cioè ci sono effettivamente hai visto delle differenze grosse negli anni fra chi fa il CLIL e chi non lo fa per esempio nella tua scuola mi sentite mi senti sì benissimo ok io sì cioè sicuramente sì io ho notato una grandissima differenza da quando abbiamo iniziato a fare CLIL tra l'altro forse non ho detto che noi perlomeno nell'indirizzo turistico nonostante non sia obbligatorio farlo prima della quinta già da qualche annetto iniziamo già in quarta forse l'ideale sarebbe anche farlo in terza comunque intanto lo stiamo facendo in quarta in quinta e sì cioè i risultati ci sono e soprattutto sono molto evidenti su quei ragazzi più deboli cioè lo studente bravo io faccio penso a una classe media in cui magari su venti ragazzi ci sono quei tre quattro bravissimi che magari hanno un livello C1 se non di più ovviamente loro sarebbero bravissimi comunque però comunque li stimola anche loro anche loro però l'effetto più grosso io l'ho visto proprio sui ragazzi più deboli nella lingua straniera ragazzi che magari stentavano anche a dire poche frasi o che comunque andavano avanti a tre a quattro molto spesso facendo CLIL non dico che avvenga il miracolo ma comunque si sblocca qualcosa e si ottengono dei risultati che non si sarebbero ottenuti nella sola classe di lingua cioè nelle sole ore di lingua straniera nel gruppo che avevo ieri è una classe anche piccolina sono 18 tutti sono stati coinvolti in questa visita guidata in inglese anche ragazzi con disabilità con DSA tutti hanno fatto la loro parte magari il più bravo sicuramente aveva più cose da dire si era preso più impegni però anche i ragazzi più deboli erano buffissimi perché erano emozionati al tempo stesso ansiosi ma volevano veramente vincere questa sfida e volevano farlo bene è stato molto buffo un ragazzo che io l'anno scorso avevo rimandato con il 4 che ieri è stato praticamente perfetto perché cioè si sentiva talmente magari di avere un livello di base di avere delle lacune rispetto ad altri compagni che ha lavorato veramente tanto e poi ieri ha fatto veramente bene è stato è stato proprio bravo e lo stesso anche una studentesa con un disturbo specifico dell'apprendimento quindi non mi è mai capitato ecco in questi anni di avere ragazzi che facendo CLIL non riuscissero ad avere come minimo un po' più di fiducia in se stessi nel parlare in lingua straniera poi noi lavoriamo molto sull'aspetto orale sull'aspetto pratico sulla produzione di materiali e sicuramente questo li rende anche un pochino più meno ansiosi perché comunque se c'è l'errore non non importa l'importante è che si possa che il messaggio passi anzi magari ieri è stato più bravo sono stati quasi più bravi quelli meno bravi a inglese perché essendo meno bravi si erano preoccupati di più si erano preparati di più andavano piano che magari la studentessa super bravissima che ha un livello molto elevato ma che ha parlato talmente velocemente che magari i nostri partner più che sanno meno l'inglese non hanno non sono riusciti a seguire al 100% quello che lei diceva perché era troppo brava inglese quindi si ribaltano un po' a volte anche le situazioni e questo è sempre bene io penso è vero in un professionale probabilmente le competenze iniziali sono ancora più basse però io penso che comunque in qualsiasi tipo di scuola si possa si possano ottenere dei buoni risultati che mi veniva in mente e poi passo la parola velocemente a Francesca volevo dire solo una cosa dal punto di vista del del CLIL nelle classi dell'attività CLIL nelle classi il professionale è non è cioè non è nei professionali non c'è l'obbligo del CLIL neanche nelle quinte vero? mi sbaglio? Luisella ti chiedo no no non c'è l'obbligo no infatti non c'è l'obbligo però ci sono varie scuole che lo stanno comunque sperimentando soprattutto mi sembra negli istituti al belgheri quelli che hanno gli indirizzi di turismo quando c'è diciamo magari uno stimolo maggiore verso le lingue stranere sono in corso sperimentazioni beh sì anche perché è una grossa occasione diciamo di far lavorare i ragazzi in una dimensione in cui non si deve solo imparare in modo astratto tutto quello che dicevate voi in precedenza quindi credo che non sia risolutivo dei livelli ammesso che ci siano dei livelli bassi linguistici e poi francamente io guardandomi intorno vedo che i livelli linguistici non sono più altissimi in ingresso nemmeno al liceo linguistico quindi non mi stupisco che nonostante se faccio riferimento all'inglese se faccio riferimento all'inglese vedo che ci sono degli studenti davvero molto molto motivati molto bravi ma sono quei famosi studenti per cui che ci sia l'insegnante o meno cambia poco riesci soltanto a motivarli e a dar loro degli stimoli perché magari riesci a fare quelle connessioni che loro non riescono a fare ma a parte quello poi il livello di ingresso è abbastanza più basic diciamo ma detto questo non riesco a capire come non si comprenda che invece anche se i livelli sono più diciamo elementari potrebbe essere questo il caso del professionale come ci dice Maria Cristina che è senso a non introdurlo questo questo CLIL cioè perché comunque insomma poi questo ci porterebbe lontano c'era Francesca che voleva dire qualcosa e puoi farlo quando vuoi io chiudo il microfono e ti do la ok mi sentite? sì ti sentiamo sì 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 ti sentite? due cose uno ci sono ritornata col pensiero mentre ascoltavo Luizella il CLIL non ha senso se non è fatto in due oltre a essere un dual focused approach ci dovevamo scrivere dual teacher approach senza l'insegnante di lingua il CLIL non può avere successo secondo me laddove insegnanti collaborano insieme e soprattutto laddove c'è un insegnante di lingua il CLIL ha un successo formativo molto maggiore questa è la prima cosa che mi premeva dire noi abbiamo la fortuna essendo un liceo linguistico di avere un insegnante madrelingua molto spesso facciamo degli orari in modo tale che nei moduli CLIL l'insegnante madrelingua vada a lavorare con l'insegnante della disciplina non linguistica questo l'abbiamo fatto in diversi casi ora io non ho presentato esperienze però vorrei citarne almeno una lo scorso anno abbiamo concluso un progetto Erasmus che si chiamava STEM leading the future cioè le materie STEM che porteranno il futuro che creeranno il progresso e insieme al Sant'Anna lo abbiamo fatto e insieme anche all'Unione Valdezio io non sento più Francesca però forse è stato un attimo di rifaiance del microfono ci sei Francesca? si sentite ora ora si puoi ripartire dal quando nominavi hai fatto riferimento al Sant'Anna da lì ti abbiamo perso allora in questo progetto c'era il Sant'Anna c'erano numerose nazioni estere compresa la Turchia e c'era poi l'Unione Valdera e con l'Unione Valdera tutte le scuole superiori comunque abbiamo lavorato con questi insegnanti delle varie scuole superiori di Pontedera su materie come la fisica la matematica le scienze però ecco lavorando e collaborando insieme con gli insegnanti di lingua sono venute fuori delle lezioni perché proprio si trattava anche di creare dei moduli veri e propri di CLIL spendibili e replicabili che sono stati estremamente interessanti poi una seconda riflessione che mi interessava fare qui il CLIL è bellissimo alla scuola media e alla scuola primaria nella scuola primaria il fatto che la divisione fra i saperi sia molto meno marcata e questo sarebbe un bene che fosse così anche nelle scuole in tutti gli ordini e gradi di scuole lavorare in CLIL diventa una cosa meravigliosa perché si applica proprio quella integrazione dei saperi che ormai quasi tutta Europa applica in Finlandia nella primaria non ci sono più le materie non esistono più non ci sono in Irlanda ce ne sono due alla primaria si parla di literacy a cui fa capo tutto quello che è espressione verbale e numeracy a cui fa capo tutto il ragionamento logico-matematico non c'è altro si spendono però mesi di ricerca per realizzare curriculi verticali di cui in Italia si parla tanto ma che siamo ben lontani dal realizzare dal pensare mentre avviare un lavoro in CLIL dalla scuola primaria portarlo poi avanti in continuità verticale non potrebbe che far arrivare dei ragazzini alla scuola superiore che già hanno perfettamente acquisito questo modo di lavorare e quindi lo potrebbero fare sempre come come metodologia di lavoro quindi non necessariamente in terza quarta quinta non necessariamente la scuola superiore sempre ecco queste erano le due riflessioni che io tendevo a fare io riprendo la parola perché c'è una una dei nostri amici che si chiama Francesca che ci chiede consigli per fare CLIL alle medie io ho provato a fare un progettino con la collega di geografia ed è stato molto stimolante sia per noi sia per i ragazzi abbiamo lavorato insieme due ore di con presenza e poi due o tre lezioni per materia sull'argomento poi ringrazio Francesca perché mentre lei scriveva stava parlando appunto di quanto sia stava dicendo quanto sia importante interessante entusiasmante pensare il CLIL per le scuole di base e per le medie quindi Luisella e Francesca avete qualche consiglio da dare per chi voglia o volesse fare il CLIL alle medie dunque ci sono dei progetti Erasmus molto grossi dedicati al CLIL che riguardano sia riguardano forse principalmente la scuola primaria però del tutto applicabili poi anche nella secondaria di primo grado e che offrono sia esempi che un discorso anche proprio metodologico davvero interessante ormai io credo che il grosso della cultura educativa passi attraverso i progetti Erasmus io spesso lo dico anche all'università questo passa molto meno attraverso il mondo accademico che attraverso il mondo della progettazione europea hai un riferimento che possiamo dare a questa nostra collega di titolo di progetto magari lo cerchi ce lo dici ce lo dico io ho anche questi due progetti cleo for you e cleo for children allora lo scrivo così lo scrivo nel documento cleo for children sono questi due progetti erasmus di niente francesca vi ringrazio cleo for you e cleo for children dunque chiedo adesso ai nostri colleghi che sono online se hanno vogliono approfittare abbiamo ancora una decina di minuti se vogliono approfittare per per chiedere alle alle nostre Luiselle e Francesca qualcosa di specifico le approfitto per ricordare che questo webinar sarà seguito da un altro webinar il 12 di novembre sempre qui su i twinning live che sarà dedicato in parte ai partecipanti al seminario di grosseto che è previsto per il 13 novembre e che però sarà naturalmente aperto a tutti perché cercheremo di raccontarvi i twinning partendo dai primi passi quindi qualora insomma voi aveste voglia di partecipare anche agli twinner che sono con noi online adesso e che volessero insomma partecipare e raccontare la loro esperienza dei twinning ovviamente siete tutti benvenuti e poi il 13 ci sarà appunto come dicevo un seminario in presenza a grosseto alliceo Rosmini e parteciperanno Amalia Lobianco Laura Maffei e Marina Marino questo seminario del 13 è l'ultimo seminario dell'annata 2018 2017 barra 2018 e poi ci rivedremo l'anno successivo a partire da forse marzo a seconda di quando il piano regionale sarà approvato da indire e vi anticipo già che credo che i webinar saranno ancora di più perché insomma ci siamo accorti che effettivamente la Toscana è una regione molto ampia e raggiungere spesso fisicamente a cavallo dell'Appennino Arezzo da grosseto viceversa non è poi molto semplice quindi stiamo ci stiamo orientando verso questa modalità si Rosaria dice peccato non essere a grosseto speriamo nei prossimi sì ma tanto noi avrete notizia di noi insomma sia su facebook che su sul sito eTwinning che insomma in altri insomma anche tramite ovviamente le comunicazioni dell'ufficio scolastico alle vostre scuole voglio dare un'occhiata al foglio delle domande per vedere se c'è allora c'era una collega che aveva iniziato a dire qualcosa mentre io ho preso la parola cioè utilizzo molto la metodologia Maria Rosaria dice utilizzo molto la metodologia CLIL nella scuola primaria sì sicuramente sì ci sono delle esperienze molto interessanti e forse dico la verità io come insegnante di lingua straniera ho collaborato e collaboro con colleghi di disciplina non linguistica con dei disciplinaristi ormai da qualche anno e devo dire che spesso sui docenti di liceo linguistico di liceo scientifico classico e di istituto tecnico o insomma comunque dei licei e degli istituti tecnici c'è un po' questa spada fra virgolette del dover poi andare all'esame di stato che secondo me toglie buona parte della spontaneità della freschezza e anche non dico dell'entusiasmo ma insomma della libertà tanto più che poi c'è anche questa frustrazione della materia CLIL che non può essere materia oggetto d'esame se la materia non è affidata al membro interno questo crea secondo me un doppio da una parte c'è quindi la spada di Damocle dell'esame di stato dall'altra parte il rischio è che la materia non sia l'esame di stato e quindi sia per il docente che per i ragazzi a volte accade che insomma ci sia tutto un po' non lo so non sto dicendo che si lavori per l'esame di stato però sto dicendo che c'è questa situazione psicologica sempre un po' sempre un po' strana no? Risella dice normativa assurda appunto io concordo nel senso che di che parliamo sono state investite risorse finanziarie ingenti per fare corsi metodologici all'università corsi linguistici all'università o nei centri di formazione docenti formati che hanno impegnato ore tempo settimane spostamenti e poi magari alla fine si finisce tutto in ah che bravo l'insegnante CLIL quindi ecco e poi magari invece tutto questo per dire che forse invece viva le scuole in cui si può fare con la libertà di dire lo voglio fare perché mi piace perché vedo che i ragazzini o i ragazzi davvero trovano si entusiasmano e fanno passi in avanti ecco mi taccio non so non volevo introdurre una nota deprimente però insomma è un po' quello che succede poi non so se voi due abbiate qualcosa da aggiungere o anche qualcun altro se vuole parlare gli posso attivare il microfono e quindi basta alzare la mano non vi mandi no io volevo solo aggiungere una piccola cosa sì infatti concordo pienamente con te la normativa all'esame di stato è veramente assurda perché non si sa mai se il CLIL sarà oggetto d'esame oppure no quest'anno noi ce l'abbiamo avuto e questo ha valorizzato moltissimo i ragazzi però se l'insegnante di arte non fosse stata interna tutto il lavoro svolto sarebbe stato comunque bello però i ragazzi non avrebbero potuto diciamo farlo vedere alla commissione una cosa diciamo buffa che è successa è che noi abbiamo due sezioni in una delle due ci sono io e già facevamo CLIL tutto l'anno regolarmente cioè ogni settimana abbiamo queste ore in compresenza la mia collega di inglese dell'altra sezione nell'anno scorso aveva detto vabbè io ho da fare le mie cose facciamo solo un modulo di CLIL e quest'anno invece ha chiesto alla docente di inglese di fare CLIL tutto l'anno anche lei cioè perché proprio ha visto la differenza cioè se diventa una cosa standard se diventa una cosa che si fa perché ci si crede perché si vuole investire tempo e se si fa un argomento meno del programma che poi non esiste più di inglese pace si sono fatte altre cose molto più interessanti sicuramente molto più stimolanti per i ragazzi ma anche per noi questo è vero però insomma rimane sempre così il discorso di dire c'è qualcuno che si che si che che non lo so vabbè mi taccio perché poi non voglio entrare non voglio aggiungere note polemiche non è questo il senso però ecco semplicemente dico magari il quando c'è la libertà di 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 non avere di non sentirsi valutati da nessuno forse si lavora con uno spirito un po' diverso noi siamo arrivati alle 18 e 29 io do di nuovo un'occhiata al al foglio delle domande ho fermo restando che naturalmente se qualcuno vuole mettersi in contatto con con Luisella e con Francesca potete farlo tramite facebook potete farlo tramite Twinning Toscana se volete potete contattarle direttamente perché essendo loro due ambasciatori di Twinning trovate i loro riferimenti sul sito di Twinning Toscana scusate sul sito di Twinning Indire quando andate a cercare gli ambasciatori della Toscana altrimenti se siete come siete perché siete qui con noi quindi siete iscritti Twinning le potete contattare all'interno dei Twinning anche perché è possibile poi che da questi incontri facebook o email dice Francesca escano anche delle belle idee per pensare magari dei progetti insieme con chi è con noi qui questa sera io se siete d'accordo vi passerei la palla per un ultimo saluto e poi chiuderei passerei la palla a Luisella per un ultimo saluto si dunque vi sentite si di nuovo saluto tutti ringrazio sia Francesca sia Simona e ovviamente mi trovate sui Twinning mi trovate su facebook o per email ma comunque già con i Twinning e facebook sicuramente è molto facile entrare in contatto un saluto a tutti grazie sì scusami grazie Luisella passo la parola a Francesca ecco anch'io ringrazio tutti quanti in special modo Luisella e Simona per questa splendida occasione vorrei dire una cosa noi grazie all'Europa e speriamo davvero che questa Europa resista abbiamo la possibilità di lavorare in una maniera più efficace ed efficiente abbiamo questa fortuna perché ecco l'Italia spesso ci sega un po' le gambe questo lo sappiamo che so io sono un docente di inglese di un liceo linguistico e non so nemmeno come farò la mia seconda prova come devo preparare gli studenti se fino a gennaio nemmeno ce lo dicono cioè ecco non lo so questo sarebbe impensabile all'estero magari se dovessero cambiare le modalità di un esame farebbero formazione per un anno intero prima ecco noi siamo abituati a lavorare in maniera un pochino più instabile diciamo così però poi quello che stupisce è la forza che abbiamo cioè questo spirito indomito che ci anima tutti e che ci fa stare anche bene insieme che ci fa cercare di costruire occasioni come queste in cui riflettiamo insieme in cui ragioniamo cerchiamo di fare scuola in una maniera migliore sempre migliore ecco ciao a tutti grazie ringrazio entrambe e davvero innanzitutto proprio a livello personale per aver accettato di partecipare a questo webinar e perché davvero aggiungo poi questo è un gruppo di persone che poi stanno anche bene insieme e le rare volte che riescono a vedersi poi chiacchierano ridono e scherzano e quindi è un bel momento e l'Europa ci consente anche questo tipo di momenti vorremmo farlo più spesso probabilmente è abbastanza difficile perché siamo lontani ma insomma in questo modo anche virtuale riusciamo a chiacchierare e a sentirci ogni tanto ringrazio tutti voi che siete stati con noi in questa ora e mezzo vi invito se doveste avere delle riflessioni a condividerle con noi nei modi e nei mezzi che ritenete più comodi su facebook su questo foglio il cui link vi ho lasciato oppure appunto via via mail trovando le nostre mail ci vediamo presto grazie ancora ringrazio Riccardo ringrazio Maria Cristina agli e-twinner che sono stati con noi è sempre un grande piacere sentirci e vi auguro una buona serata e un buono fine settimana vi ricordo che questo webinar sarà caricato su youtube appena possibile e quindi se avete dei colleghi che volete coinvolgere o se volete passare parola noi siamo ovviamente molto molto contenti grazie ancora e buona serata da Simona Bertone grazie a tutti